Buonasera a tutti, grazie per esservi iscritti a questo webinar, io sono Giuseppe Cericola, Country Manager Italia per TICMIL, prima di passare la parola all'ospite di questa sera vorrei farvi una breve introduzione del nostro broker, leggo come sempre il disclaimer, tutte le informazioni, i video, i webinar e gli altri servizi offerti da TICMIL hanno carattere puramente educativo non costituiscono nessun incentivo di investimento, chiunque intraprenda questa attività lo fa per sua spontanea decisione assumendosene tutti i rischi, di conseguenza gli autori dei corsi e lezioni non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti e declina ogni responsabilità nei limiti dalle leggi per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Davide se puoi passare alla prossima slide. Allora, quali sono le caratteristiche principali di TICMIL? Intanto è un broker STP con commissioni tra le più basse del settore, spread a partire da zero, regolamentazione FCA UK dove i fondi sono segregati e separati dalla società e assicurati fino a 50.000 sterline. Non ci sono limitazioni sui profitti e sono accettate tutte le strategie e tutte le tipologie di expert advisor. C'è la protezione del saldo negativo, poi non ci sono recode, quindi non avrete mai un recode su TICMIL e c'è la possibilità che l'ordine venga eseguito anche con slippage positivo. La velocità di esecuzione è ultra rapida, è garantita da oltre dieci server sparsi per il globo. Ci sono diversi strumenti tra cui forex, indici azionari, materie prime e metalli preziosi. Davide se puoi andare alla prossima perché è tutto a memoria e non mi ricordo. Sono stati aggiunti nuovi strumenti di trading come AutoChartist, la VPS, il OneKit Trading e la demo è illimitata, quindi potete provare tutte le strategie senza nessun tipo di limitazione. Non ci sono costi sui prelievi e depositi. Poi c'è un interessante programma di Introducing Broker dove segnalando altri traders guadagnate direttamente una parte dalle commissioni che vengono generate. Quindi ci sono tre tipologie di conto, il conto di punta è quello PRO dove c'è una commissione di 2 dollari per ogni 100.000 dollari tradati, da vedere poi passare anche all'altra slide. Sul sito di MyFXbook, quindi non è un sito di TIC1000, potete confrontare l'offerta spread e commissioni di TIC1000 con tutti gli altri broker. Noterete molto spesso che gli spread e incluse le commissioni, come è riportato in questa slide, sono sempre tra le più basse rispetto agli altri competitor. TIC1000 è molto trasparente anche nei numeri, quindi Davide se fossi alla prossima. Qui sono riportati i vari server nel mondo, quindi come dicevo oltre 10 server. TIC1000 è molto trasparente ai numeri, nel 2016 sono stati tralati oltre 434 miliardi di volume di trading e oltre 17.000 clienti hanno aperto il conto in tutto il mondo con TIC1000. Il sito, questo è il conto di benvenuto da 30 dollari che mi invito a provare, non è richiesto nessun tipo di deposito, quindi basta aprire il conto, Davide se vai sul sito di TIC1000, faccio vedere dove, in promozioni, conto di benvenuto da 30 dollari. Basta lasciare una mail, non serve nemmeno il numero di telefono, quindi con una semplice mail, potete provare il conto che più vi aggrada tra il pro e il classic. Mi raccomando soltanto di inserire i nomi corretti, reali, corrispondendo al vero, perché poi nel caso ci fosse un guadagno su questo conto di benvenuto, può essere trasferibile soltanto verso un conto reale, quindi i dati devono corrispondere. Detto questo, io passerei all'ospite di questa sera che è il trader Davide Spaulding. Davide mi senti bene? Quando vuoi poi presentare? Sì, sento bene. Benissimo, benissimo. Grazie Giuseppe, sono le 7.40 quindi siamo perfettamente in tempo, buonasera a tutti, questo è un webinar dedicato ad un argomento assolutamente interessante per chi fa già trading, ma anche e soprattutto per coloro i quali si stanno avvicinando al mondo del trading e hanno sentito parlare di queste due scuole di pensiero, quindi trading discrezionale versus trading sistematico, dove per sistematico intendiamo trading automatico. Intanto per una questione di educazione, due parole velocissime su di me. Chi sono? Sono un trader ormai a tempo pieno, dal 2012, come la maggior parte delle persone, forse anche dei più presenti, ho iniziato diversi anni fa affacciandomi in un primo momento al trading cosiddetto multi-day, quindi sui grafici di lungo termine, grafici giornalieri, settimanali. Dal 2012 in poi, avendo avuto la possibilità di, tramite scelte di vita, di dedicarmi esclusivamente al trading, mi sono specializzato prevalentemente nel trading intraday, quindi parliamo di operazioni che vengono chiuse solitamente nell'arco della giornata, anche se ovviamente non disegno qualche operazione di medio periodo, solitamente rimango a mercato qualche giorno entro la settimana. Sono prevalentemente un cambista, mi sono un po' specializzato sul forex, anche se opero, come alcuni di voi sanno, principalmente su alcuni indici, tra cui il DAX. Sono fondamentalmente un appassionato di questa disciplina del trading e quindi insieme ad alcuni amici mi dedico, oltre che al mio trading personale, anche allo sviluppo di idee che hanno a che fare con il trading di tipo tecnico, ma anche quantitativo e alla direzione di strategie e sviluppo di sistemi automatici. A chi si rivolge questo webinar? Nel preparare un pochino gli argomenti ho pensato a te, soprattutto a te, che puoi essere incuriosito dall'opportunità offerta dal mondo del trading e devi districarti in mezzo ad una balanga di informazioni disponibili anche grazie a internet, grazie al web. Allora ecco che le domande che potresti farti, che ho immaginato una persona che desidera avvicinarsi al mondo del trading, può farsi, sono queste tre fondamentalmente. Ma il trading fa veramente per me? Può essere un'opportunità per me? A chi ho che cosa dare ascolto? E come filtrare anche nel giusto modo tutte queste informazioni, come dicevamo prima, in modo da non perdere troppo tempo e possibilmente imboccare nel minor tempo possibile la strada più giusta per te. Ovviamente ci rivolgiamo non solo a chi si sta avvicinando al trading, ma anche a tutte quelle persone che fanno già trading, forse da qualche anno, quindi io qua ho scritto se hai già abbastanza navigato, anche se magari potresti non essere del tutto soddisfatto dei tuoi risultati. Che cosa esamineremo in questo webinar? Beh, intanto le caratteristiche principali che attengono al trading automatico, sistematico e al trading discrezionale. Vedremo alcuni vantaggi che indubbiamente sono offerti dall'automazione, vedremo anche alcuni vantaggi che invece sono offerti e sono prerogativa del trading discrezionale o manuale. Vedremo quali sono i passi che dovrai compiere se vuoi intraprendere la strada del trading, a prescindere che sia la strada del trading sistematico o la strada del trading discrezionale. In ultimo andremo a esaminare alcuni performance report, in buona sostanza le statistiche che è possibile visionare grazie anche al web oggi in maniera del tutto gratuita, in modo da andare ad analizzare alcuni trading system che sono pubblici e che si possono visionare su internet, ma anche per andare a capire quali sono le voci, i parametri statistici e come leggerli soprattutto per valutare una strategia di trading o un conto di trading. Vorrei che questo webinar fosse un pochino interattivo, quindi mi piacerebbe che eventualmente se ci sono delle domande lasceremo eventualmente qualche minuto nella parte finale per poter rispondere. Esatto Davide, lasciamo uno spazio di 10 minuti alla fine per tutte le domande. esatto, mi piacerebbe quando l'ho impostato questo webinar ho pensato un pochino a qualcosa anche di un po' di interattivo, in modo da rendere il dialogo un po' meno noioso, più interessante. E quindi voglio iniziare subito chiedendovi che cosa vedete in questa immagine. È un'immagine molto importante che farà un po' da filo conduttore durante tutto questo webinar. E quindi proprio vi voglio chiedere voi, presenti qua nella sala virtuale, che cosa vedete in questa foto? Vediamo se c'è qualche coraggioso che risponde. Io purtroppo non vedo Giuseppe la chat, cioè non riesco a leggere. Allora, leggo io. Aspetto che tutti dicono proprio a… Ma come vuoi più o meno, insomma. Comincia già eventualmente a leggere qualche risposta. Allora, una donna che guarda dal lato opposto, quello che vedevo anch'io. Una donna che guarda dal lato opposto, quindi una donna giovane, credo, giusto? C'è qualcuno che dice anche una donna giovane e vecchia. Donna giovane e vecchia. Qualcuno dice donna giovane e qualcuno dice donna vecchia. Andrea ha scritto solo una donna, però in realtà… Una donna? Quanti anni ha questa donna Andrea, più o meno? Così ci facciamo un'idea. Solo a quarantina. Ok, donna giovane. Da quello che mi stai dicendo Giuseppe, non riesco a leggere, ma lo stai dicendo tu, praticamente abbiamo diviso e spaccato l'opinione della sala in due parti. C'è chi vede la donna giovane e in effetti la donna giovane… Apro uno strumento penna così mi servirà anche dopo. La donna giovane in effetti c'è in questa immagine. Eccola qua. Probabilmente chi vede la donna giovane vede il naso, che è questo, vede le sopracciglia o le ciglia, vede i capelli, vede il viso, che è questo, vede il viso. Questa è la collana, la collanina che sta sul collo della donna giovane e questo il collo. E qua c'è un pellicciotto. Chi vede invece la donna vecchia vede l'occhio, eccolo qua, l'occhio della donna vecchia, una donna che sembra quasi una befana, una strega. Questo è il naso della donna vecchia, della befana. E questa è la bocca, questa qua è la bocca e questo è il mento. Ora, perché ho voluto farvi vedere questa immagine? Beh, perché in definitiva se ci pensate tutta la nostra vita ruota fondamentalmente intorno al punto di vista. Quindi in questo webinar vi farò delle domande, farò riferimento a degli spunti di riflessione, che sono i miei spunti di riflessione. E in definitiva allora ecco che deve servirci un po' come cappello per andare a fare una semplice affermazione, una affermazione di buonsenso, che fondamentalmente non esistono, specialmente nel mondo del trading, ma come anche in altri mondi, verità divinamente rivelate, cioè assolutismi, ma esistono i punti di vista, esistono opportunità per ciascuno di noi e in definitiva è la persona, è chi sta guardando questa immagine che deciderà se voler vedere la donna giovane oppure la donna vecchia. Ok, mi sposto. La vecchia proprio non l'avevo vista, cavolo non l'avevo visto la befana, alcuni commenti. Esatto, quindi in questa immagine ci sono due verità, cioè sia la donna giovane che anche la donna vecchia, come spesso accade un po' nella vita. Un altro cappello che voglio mettere a questo webinar è questo, e non so se qui presenti hanno mai sentito parlare del quadrante del cash flow. Eventualmente Giuseppe se puoi darmi qualche feedback, nel frattempo continuo a parlare. Io quando vedo le domande attinenti ti interrompo e te lo comunico. Che cos'è il quadrante del cash flow? Beh, fondamentalmente ne parla Robert Kiyosaki in uno dei suoi libri, è un modo intelligente in cui è possibile andare a suddividere fondamentalmente come si produce ricchezza, come si produce reddito a livello mondiale. E Robert Kiyosaki in maniera intelligente ha suddiviso le varie categorie, chiamiamo professionali, in quattro quadranti, che sono questi che vedete. Qui in alto a sinistra abbiamo il quadrante dei D, qui in basso a sinistra il quadrante degli A, qui in alto a destra il quadrante dei T e qui in basso a destra il quadrante degli I. Che cosa rappresentano queste sigle? Beh, fondamentalmente partiamo da un presupposto. Il 95% della popolazione mondiale si colloca e si trova nei due quadranti di sinistra. Quindi parliamo della categoria D e della categoria A. Chi sono i D? I D sono coloro i quali dedicano tutta la loro vita alle dipendenze di un'azienda, di una ditta, a qualcuno e barattano continuamente ogni giorno il loro tempo, solitamente le otto ore fatidiche di lavoro, per ricevere a fine mese uno stipendio, per ricevere un salario. Coloro i quali tra i D magari hanno un pochino più qualche sogno nel cassetto, forse magari un pochino più ambiziosi, desiderano cercare di cambiare un pochino la loro vita, possano trovarsi alla scelta di voler aprire un'attività. Ed ecco che molti D, che inizialmente partono in D, si spostano nel quadrante A. Chi sono gli A? Sono gli autonomi, sono i liberi professionisti, un avvocato, un commerciante, un negoziante, un commercialista, un notaio. Sono tutte categorie professionali dove al centro del loro mondo c'è la loro professione, non hanno dipendenze nei confronti di un datore di lavoro, e sebbene queste due categorie di persone possano sembrare molto diverse fra di loro i D e gli A, in verità hanno in comune una cosa. Che cosa hanno in comune? Hanno in comune che tutte e due le categorie professionali devono ogni giorno barattare il loro tempo per avere denaro in cambio. Cioè in buona sostanza tempo uguale denaro. Tempo uguale denaro. Dall'altra parte del quadrante invece abbiamo i T e gli I. I T chi sono? Sono coloro i quali posseggono un sistema, immaginate un sistema azienda, immaginate un'azienda con almeno più di 500 dipendenti. Bene, un T ha la possibilità di utilizzare l'effetto leva del tempo che gli viene venduto dai D in modo tale da produrre ricchezze che da solo, soltanto con il suo tempo, non potrebbe produrre. Quindi il T generalmente ha un sistema o un sistema azienda e persone che lavorano per lui. E qui in basso a destra abbiamo il quadrante degli I. Chi sono gli I? Beh, sono coloro i quali hanno tanti soldi, grossi capitali e fanno lavorare i soldi per loro. Perché ho voluto tirare in ballo il quadrante del cash flow? Perché quando io iniziai a fare trading molti anni fa avrei voluto che qualcuno mi facesse la domanda ma tu Davide che cosa pensi di ottenere dal trading? E ovviamente mi spiegasse questi concetti. E allora la domanda è, il trading dove si va a collocare all'interno di questi quattro quadranti? Ecco, sono alcuni spunti di riflessione che cerchiamo anche di approfondire nel corso di questo webinar e quindi lo riprenderemo poi nella parte seconda. Bene, quindi entriamo nel vivo dell'argomento e parliamo dei cliché. Allora, tendenzialmente intorno a queste due scuole di pensiero, trading discrezionale e trading automatico, spesso nascono delle lotte intestine fra i sostenitori dell'una o dell'altra categoria. In genere chi è a favore del trading sistematico automatico è solito affermare che è sicuramente meglio il trading automatico perché sul lungo periodo la macchina batte l'uomo. D'altra parte, la scuola di pensiero, la scuola opposta, cioè coloro i quali invece sostengono e sono a vantaggio esclusivo del trading discrezionale, dicono l'esatto contrario. No, è meglio il trading discrezionale perché in definitiva l'intelligenza, la sensibilità umana sono infinitamente superiori a qualunque software per quanto sapientemente sviluppato. Allora capite bene che ritorna di nuovo l'immagine che abbiamo visto prima della vecchia donna e della donna giovane. Cerchiamo di fare un pochino luce su questi aspetti. Intanto il primo bivio che una persona prima o poi si incontrerà davanti nella sua via, sia che faccia già trading da diverso tempo o che si stia facciando per la prima volta, è appunto quale strada scegliere. Se scegliere la strada del trading sistematico, quindi le vie sono fondamentalmente due, utilizzare trading system sviluppati da altri, oppure imparare a sviluppare e programmare in proprio interamente una strategia tramite i vari software che sono disponibili. D'altra parte per chi sceglie la strada del trading discrezionale potrebbe esserci la possibilità di utilizzare strategie ideate da altri, si pensi ad esempio ai vari segnali di trading che possono essere comprati tramite la professionalità che è messa a disposizione da parte di trader professionisti. Oppure anche qui se utilizzare strategie personali tipiche del trading manuale e svilupparle in proprio. Quindi in entrambi i casi diciamo che le scelte sono due, appoggiarsi ad altri oppure imparare a fare trading sistematico o discrezionale in conto proprio. Entriamo nel vivo dell'argomento e cominciamo a vedere alcune delle peculiarità che riguardano il trading sistematico. Beh, certamente un vantaggio è che sono software che possono lavorare 24 ore su 24 senza conoscere fatica, aprono posizioni, le chiudono in maniera totalmente autonoma. Quindi questo è certamente uno dei grandi vantaggi del trading sistematico. Un altro vantaggio è che si possono occupare in maniera precisa del money management, del position sizing, di tutta quella gestione del rischio che altrimenti verrebbe lasciata alla discrezionalità o meglio alla manualità del trading. Un grande vantaggio è la possibilità di backtestare le strategie di trading, ma questo poi lo vedremo in un secondo momento. Possibilità di andare alla ricerca tramite i numeri di inefficienze. Inefficienze che ci sono e possono esistere sui mercati, non sempre visibili all'occhio nudo e soprattutto capire se queste inefficienze possono essere sfruttabili dal punto di vista del rendimento. Un altro grande vantaggio è quello che un trading system può unire più software fra di loro in una logica di portafoglio per andare in qualche modo a livellare un conto di trading nella sua equity line conclusiva, finale. Un altro grande vantaggio che molti attribuiscono al trading sistematico è la questione del fattore psicologico. Io non sono del tutto d'accordo, infatti qui come vi ho detto ho aggiunto non del tutto, ma ne parleremo meglio dopo. Sicuramente il maggior distacco emotivo, anche qui non del tutto. Certamente un'ivocità del setup operativo che gioco forza coincide con quello che è stato programmato, cioè la macchina in definitiva fa stupidamente quello che gli si dice di fare e non si inventa niente. Un altro aspetto a favore del trading sistematico è sicuramente l'aspetto dei sentimenti tipici degli esseri umani. Un trading system non è avido, non conosce paura, non conosce l'euforia, se guadagna o se perde in buona sostanza non gliene frega niente. Esce da un trade sbagliato se è stato programmato di uscire e chiude in profitto un'operazione sulla base delle regole che sono state programmate. Abbiamo parlato della peculiarità e della possibilità di backtestare ogni tanto va via la voce, mi viene detto, sì perché ho MetaTrader attaccata, la chiudo, vediamo se va un po' meglio, grazie. Affrontiamo un pochino meglio una di queste peculiarità che abbiamo elencato, cioè possibilità di backtestare strategie e scoprire ad esempio delle cose interessanti come quelle che voglio mostrarvi ora. Allora, insieme al mio caro amico Filippo, che è valido programmatore, abbiamo ideato una, insomma abbiamo voluto testare una strategia, una strategia di trading, è una strategia di trading trend follower, ok? Trend follower. In modo da sostanza va alla ricerca dei trend e cerca di cavalcarli. Questo è il risultato. Come potete vedere, certamente abbiamo una interessante equity line, una bella inclinazione al rialzo, certamente i profitti interessanti. Vi inizio a accennare già un parametro che io guardo spesso, che è proprio questo qua, l'average trade, 332 dollari, che significa circa un rendimento medio per ogni trade di 32 pips, quindi sicuramente interessante, ma questo poi lo approfondiremo dopo. Ora, in questa immagine che cosa vediamo? Una bella equity line, quindi il motto trend is your friend è confermato, ok? Tra l'altro questo è uno degli assiomi, dei pilastri, che chiunque inizia a fare trading è una delle prime frasi che impara a stamparsi nella memoria. Abbiamo voluto fare una prova, quindi abbiamo utilizzato questo stesso expert advisor con le stesse regole, le stesse impostazioni su un altro strumento finanziario. Cosa esce? Esce una altissima equity line, frastagliata, perde, vedete che perde, e quindi questo che cosa ci, perché ho voluto farevi questo esempio, che arriva da un esempio reale di una strategia nostra che sta girando in real? Che il trading sistematico, l'automazione dei meccanismi permette anche di andare a capire se un cliché come la frase trend is your friend è veramente vero, è sempre vero, oppure può essere anche in alcuni casi falso o meno vero, come in questo caso. E quindi capire, per esempio, che una strategia trend follower può essere più adatta su alcuni strumenti finanziari che hanno carattere di trend e altri che hanno un carattere più di ritorno al proprio valore medio si dice, si parla nel mondo del trading di man reverting e questa è sicuramente una delle possibilità offerte dalla automazione. Davide, scusa, se puoi aprire l'euro dollaro perché si sta muovendo in maniera abbastanza... Sì, sono già le 8, sì, ho chiuso la piattaforma ma vediamo tra l'altro io ho venduto euro dollaro lassù, vediamo se mi va al target qua sotto ho inaugurato il tuo il conto di Tickmill con questa operazione già a pari Ti ha sfiorato lo stop e non te l'ha preso Esatto, esatto infatti, vabbè, piccolo spazio pubblicitario ho avuto modo di provarlo un po' in questi giorni io faccio trading, intraday, scalping e ho visto che si comporta bene insomma lo spread No, ma sulla notizia del phone che non venirti a prendere quello stop Esatto, esatto con l'allargamento dello spread Stacca tutto, mi viene detto stacco scalo chiudiamo Skype perché mi si dice che non mi si sente Giuseppe, come... No, io ti sento abbastanza... cioè il filo del discorso è chiaro qualche parola si perde però sostanzialmente è abbastanza chiaro Ok, magari Giuseppe tieni d'occhio oro dollaro tu se ci fai avvisare se c'è qualche cambiamento repentino penso che un eventuale movimento potrebbe farlo sulla conferenza stampa tra qualche minuto chiudo un attimo se no mi porta via banda e eventualmente lo segui tu Allora, continuiamo con il trading sistematico e vediamo qual è la strada che dovrai percorrere se desidererai diventare uno specialista di questo mestiere quindi del trading sistematico Allora, il sistema è quello del reperimento di storici affidabili voi sapete che gli storici che di default troviamo nelle nostre piattaforme di trading possono non essere affidabili ci possono essere anche dei buchi storici ed è ovvio che se devo andare a costruire una strategia di trading sul passato devo dotarmi di storici affidabili questa non è una cosa così scontata perché si può dover investire del denaro per il loro acquisto ci sono vari servizi, offerti ci sono anche alcuni broker alcuni intermediari che danno diversi anni di storico aprendo il conto ma ad esempio non tutti gli storici vengono dati quindi anche questo questo è una delle insidie è una prima cosa da fare può richiedere tempo un certo sbattimento un'altra cosa è individuare la scelta della piattaforma di sviluppo tra le molte esistenti anche questa è una scelta non così scontata alcune piattaforme hanno dei vantaggi altre vantaggi diversi e quindi in buona sostanza ogni piattaforma ha i suoi pro e contro imparare il linguaggio di programmazione in maniera approfondita è come imparare una nuova lingua disponibilità a impiegare tempo per scrivere, risolvere codici di programmazione che hanno lo scopo di far fare alla macchina quello che normalmente il cervello umano il tuo cervello umano fa in un batter d'occhio può sembrare una cosa scontata ma vi assicuro che programmare anche solo poche operazioni stupide che un essere umano fa così in due secondi questo richiede tempo progettare un portafoglio quindi un insieme di strategie in grado di performare in modo efficiente sul lungo periodo quindi non solo progettare l'expert advisor o il robot ma anche poi tutta l'attività che c'è dopo cominciamo ad accennare a qualcosa simulazioni in Monte Carlo studio sul rischio e rovina applicazione del corretto position sizing ad esempio martingala anti-martingala sites fissa le risposte a queste domande non sono così scontate perché ad esempio se dal conto di trading su cui io farò girare le strategie devo prelevare perché devo vivere allora potrei prediligere un position sizing se invece sono capitali che posso lasciare lì nel tempo e farli crescere potrei prediligere un altro tipo di position sizing impatto psicologico o è trader sistematico prima o poi si troverà di fronte a questi problemi perché io ci sono passato e quindi ve li dico e periodi di stagnazione immaginate di progettare una strategia di fare il vostro backtest su una finestra temporale adeguatamente lunga vi dico già che mediamente dieci anni di backtest sono più che sufficienti anche perché fondamentalmente i mercati sono stati i mercati la gran parte dei mercati sono stati completamente digitalizzati negli ultimi dieci anni dal 2008 in avanti e immaginate di quindi avere un bel backtest fatto nel passato con tutti i crismi con tutti gli accorgimenti che un buon trader sistematico deve prendere metterlo a girare in real e di vedere che questo expert fondamentalmente non guadagna non guadagna non perde cosa fare? e come mai nel passato non aveva nel passato quei periodi di stagnazione e si presentano puntualmente cosa fare? fermare il trading system lasciarlo andare modificarlo insidie questioni che impattano e che richiedono tempo per la loro risoluzione o immaginate ad esempio di aver sviluppato sempre con le logiche con i crismi dovuti un trading system e di trovarvi di fronte nel momento in cui lo mettete a girare in real l'ound drawdown completamente inaspettato che storicamente non si è mai verificato nel passato che fare? è un segnale che il trading system e la strategia non funziona più? oppure andare a intervenire per cercare di modificare i parametri e che cosa modificare? togliere alcuni indicatori sui quali magari il trading system può essere stato progettato o metterne degli altri andare a cambiare alcuni parametri rischiando di incorrere nell'overfitting ne parleremo dopo o immaginate quest'altra situazione è meglio avere un trading system che ha e che produce delle perdite consecutive ma contenute oppure è meglio una strategia automatica che magari nel passato ha dato una grossa perdita ma che poi ha recuperato con una sequenza di trade profittevoli e sono domande che ogni trader professionista ogni trader sistematico professionista si deve porre parliamo anche dei guadagni i cosiddetti run up mi sento per esempio di mettere a mercato un sistema un trading system che pur guadagnando bene lo fa con singole sporadiche sparate magari un anno va bene poi negli anni successivi non guadagna più va in stagnazione e poi magari dopo un altro anno incomincia a fare di nuovo dei guadagni è un sistema che per il mio carattere per la mia personalità e qui ritorniamo di nuovo alla immagine della donna vecchia della donna giovane e va bene per me mi sento di metterlo a mercato va bene per la mia capitalizzazione se intraprenderete la strada del trading sistematico queste saranno dei scenari delle situazioni in cui certamente potrete trovarvi andiamo avanti il trading system il ritorno finale il gain potrebbe non essere l'unico parametro ad esempio un parametro che è molti trading è quello della frequenza operativa immaginate una strategia di trading bellissima che fa dei bei guadagni ma che fa un'operazione all'anno e poi per tutto l'anno uno o due operazioni all'anno e poi per tutto l'anno sta ferma in genere chi fa trading siccome ha una logica da speculatore non è necessariamente un investitore un cassettista vuole vedere un pochino muovere i soldi e allora questa è una cosa sulla quale un trading sistematico si deve si deve soffermare si deve chiedere la questione dei drawdown aspettati imprevisti solleva l'accia nel presente ma anche nel futuro della strategia che in maniera compiuta il trader sistematico ha programmato ma questo punto l'abbiamo già visto prima quindi direi di andare oltre la questione overfitting ne parleremo dopo il forte impatto emotivo nel vero trading sistema è magari entrare in trade che sono palesemente sbagliati immaginate un trader esperto un trader discrezionale esperto un esperto di mercati che magari non entrerebbe mai in un breakout e invece il sistema per come è progettato sta entrando in quel breakout e anche qui potrebbe nascere la tentazione di spegnerlo in quel momento o di chiudere quel trade insomma anche qua la questione della disciplina che tanto ha a che fare col mondo discrezionale ma vi assicuro che anche la disciplina deve essere sviluppata nel trading sistematico non è tutto rose e fiori un altro problema è quello che affligge la maggior parte dei trading system commerciali che si comprano che vengono venduti è quello del problema dell'average trade che gran parte dei trading system è inferiore ai 10 pips e questo è un grosso voi fateci caso andate sui vari siti dove ci sono trading system ad esempio mefxbook.com troverete un'infinità di trading system automatici che non riescono ad avere la media di 10 pips a meno che non siano delle griglie ma delle griglie le parleremo dopo altro aspetto che impatta sulla strada del trading sistematico devo prelevare dal mio conto di trading ci devo vivere ok quindi sono queste domande sicuramente impattano sulla progettazione di un trading system stesso l'overfitting dicevamo che cos'è l'overfitting? beh è l'eccessiva modellazione di una strategia al passato agli storici passati e quindi fare in modo che nel passato conoscendo siccome i dati sono conosciuti in qualche modo l'expert advisor lo si costruisce in modo tale che alla fine guadagni e questa è pratica scorretta oltre che sconsigliata e purtroppo gran parte dei sistemi commerciali a pagamento hanno questo grosso problema dell'overfitting e l'overfitting è sempre dietro l'angolo perché anche se non c'è mala fede e c'è buona fede può non essere così immediato riconoscere esattamente la linea di inmarcazione tra che cos'è overfitting e che cosa non lo è se intraprenderete la strada del trading sistematico dovrete spesso chiedervi sto overfittando il mio sistema che cos'è l'overfitting per spiegarlo ai neofiti è semplicemente andare a settare gli indicatori che possono essere abbinati ad esempio ad una strategia trend follower ad una strategia di man reverting in modo tale che nel passato tutto funzioni bene quindi andare a trovare i migliori parametri possibili pratica scorretta ed è un'insidia con cui il trading sistematico deve lottare allora vi do un consiglio che nasce un pochino dall'esperienza i parametri più interessanti non sono solo quelli dell'equity line la più bella equity line ma soprattutto quei parametri che nei dintorni si comportano allo stesso modo in maniera media ok quindi è preferibile scegliere il valore medio in una ottimizzazione di un trading system che dia origine a dei risultati piuttosto vicini fra di loro in modo da creare un equity line il più possibile credibile cosa assolutamente non semplice ed ecco perché per realizzare trading system che possano affrontare i mercati questo richiede tempo può richiedere anche mesi se non addirittura anni di studio per realizzare dei portafogli completi bene direi che abbiamo toccato un pochino tutti i punti che sono relativi al trading sistematico passiamo al trading discrezionale allora quali sono le peculiarità beh intuito prerogativa l'essere umano ha un'intelligenza che gli permette di capire di sentire se in quel momento il mercato può reagire a un breakout in un certo modo piuttosto che in un altro certo questo intuito si deve sviluppare si deve addestrare nel corso del tempo si deve fare uno studio approfondito dei grafici dell'analisi tecnica oppure dell'analisi fondamentale che sono un po' le due scuole di pensiero attorno alle quali spesso come ben sapete nascono lotte intestine anche qui la peculiarità del trend è di una probabilmente una maggiore capacità di adattamento alle varie fasi del mercato immaginate un robot fondamentalmente stupido e per lui un breakout è sempre un breakout l'essere umano può con le sue conoscenze approfondite riconoscere una fase di trend da una fase di lateralità e magari un essere umano quel breakout lo trada esattamente al contrario a break in e questa è una peculiarità certamente che si può attribuire al trend discrezionale capacità di spostarsi da uno strumento più adatto immaginate di trovare nel mattino di fronte a chi fa trading intraday di fronte al monitor euro dollaro impiantato che non si muove potete decidere piuttosto velocemente di spostarvi su qualcosa che ha una volatilità in quel momento più sostenuta possibilità di decidere di tradare o non tradare capacità di interpretare le variabili che governano le forze di mercato immaginate tutti quei market movers le news le dichiarazioni i fenomeni geopolitici che certamente impattano sulla volatilità quindi sapere che oggi ad esempio oggi pomeriggio c'erano dei dati rossi per chi ha seguito un po' i mercati sa che oggi il calendario era bello fitto di dati e certamente il trading discrezionale può permettere di destreggiare queste cose magari cercare di trarre qualche vantaggio ovviamente sempre con la dovuta preparazione dovuta gavetta possibilità di adattare il trading alla propria personalità trading intraday scalping trading di medio periodo multiday il trading discrezionale lascia un pochino questa scelta e poi certamente la soddisfazione psicologica che nasce dal fare l'analisi di mercato chi fa trading so che qui in sala molti sono presenti fanno trading insomma c'è una certa soddisfazione nel voler nell'analizzare i grafici nel fare delle analisi che poi si riveleranno corrette e poi c'è l'aspetto della vocazione non sempre le cose si fanno solo per il mero logico profitto anche se ovviamente è una delle prime cose che un trader desidera ma c'è anche l'aspetto del piacere e in questo il trading discrezionale offre delle possibilità parlavamo della peculiarità relativa alle dichiarazioni politiche le news oggi ecco questo è il calendario di oggi vedete quanti dati rossi una macchina a meno che non sia programmata sul calendario economico e lo traderà probabilmente in questo contesto un trader discrezionale potrebbe anche decidere di non tradare ok anche se certo un trading sistematico può decidere anche di spegnere la macchina però di default è un intervento che comunque va a inficiare sulla strategia perché quando si progetta una strategia di trading automatico non si vanno a vedere i calendari economici degli ultimi dieci anni probabilmente quindi la macchina fa i suoi trade in tutte le condizioni di mercato Giuseppe aggiornamenti su euro-dollaro no ti stavo seduendo aspetta tutto fermo no mi era un attimo sta scendendo quindi adesso 1.12.46 ha rotto il 1.12.5 ok allora parliamo delle insidie abbiamo visto le peculiarità alcuni vantaggi del termine discrezionale vediamo le insidie beh la disciplina disciplina è una delle cose dei tormenti con cui chi fa trading dovrà imparare a convivere quindi l'addestramento a rispettare il proprio piano di trading e anche qui nasce la questione ma lo devo rispettare proprio sempre 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 in maniera rigida posso permettermi ogni tanto qualche deroga gestione degli stop loss spostare lo stop loss non spostarlo addirittura so di alcuni trader che lavorano senza stop loss per me è una cosa che non si può neanche pensare ma è giusto che ognuno imposti il suo lavoro nel modo più consono ma questa è un insidio i backtest passati infatti sono corrotti dal fattore illusione ottica e anche se io sono molto preciso meticoloso nell'andare a mettere giù su Excel per esempio alcuni report potrei fare qualche errore che la macchina invece non fa ovviamente un maggior dispendio di energia nel processo decisionale perché sapete che ogni volta che si clicca compro o vendi si deve fare prendere una decisione l'emotività che certamente impatta maggiormente e può impattare sulle performance nel lungo periodo e poi qua chi di voi chi di noi non ha mai non si è mai trovato di fronte ad un movimento che si cercava che si aspettava ci si alza per andare a fare cena o per andare a casa pranzo oppure per fare altro e il mercato tu sei fuori e il mercato si muove nella direzione che avevi immaginato stacchezza fisica di cui si parlava prima che possono impattare maggiormente sull'operatività se non ci si addestra su questo la questione del money management che tendenzialmente nel trading discrezionale se non c'è la dovuta disciplina in genere viene un po' lasciata al caso e questo impatta inevitabilmente sulle performance del proprio conto e poi se si fa trading in 3 day si rischia di incorrere nell'over trading nel trading sistematico c'è l'over fitting e qua abbiamo l'over trading cioè stare troppe ore davanti al monitor voler prendere tutti i movimenti quando in genere il mercato spesso passa delle fasi in assoluta lateralità e poi ecco l'importanza di avere un'agenda di trading che spesso è l'aspetto più trascurato agenda o diario di trading che è un aspetto molto trascurato sebbene il bel pensare le buone scuole di trading è una delle prime cose che insegnano a fare ragazzi quanti di voi l'agenda di trading di parecchi anni fa no vediamo se sono attenti ragazzi quanti di voi hanno un un diario di trading un conto agganciato a MyFXbook vediamo no sì diario e MyFXbook no ok diciamo che siete abbastanza disciplinati ok Davide puoi andare avanti ti ho dato un po' di intanto ho aperto di nuovo la piattaforma sì è sempre lì fermo che ora sono 8.20 tra un po' c'è la conferenza forse c'è già ok questo è un diario di trading molto vecchio quando ancora non c'era internet non c'era il web probabilmente e oggi abbiamo dei vantaggi sicuramente delle agevolazioni una delle tante possibilità è questa MyFXbook.com agganciandola al proprio conto di trading è possibile andare a tenere delle statistiche e vi ho sicuro che tenere le statistiche anche sulla propria attività è qualcosa che può dare molto in termini di educazione al trading anche qua piccola parentesi spesso vedo anche sui Facebook lotte intestine gente che si scaglia contro persone insomma a mio avviso l'utilità migliore che può avere un MyFXbook è quella di utilizzarla per se stessi oppure per andare a individuare delle strategie che ci possono essere vendute per imparare a capire se sono adatte a noi impariamo a leggere il performance report le prime che così mi sono capitate sotto mano ho cercato anche di prendere strategie che sono un pochino diverse fra di loro allora certamente la prima cosa che a colpo d'occhio impatta sicuramente è l'equity line quindi la prima cosa da guardare è certamente l'equity line perché ci restituisce visivamente molte informazioni per esempio in questo training system abbiamo un bel guadagno per una buona parte del tempo questo sta girando da gennaio 2016 per una questione di privacy ho voluto togliere i miei riferimenti non mi sembrava giusto e vedete che nella parte da gennaio in avanti ha avuto un crollo un crollo repentino è in guadagno perché comunque un bel 399% di gain è sicuramente un risultato di tutto rispetto e se io dovessi ad esempio decidere di comprare un training system di questo tipo cosa decido cosa faccio allora io mi sono un po' puntato qua sotto alcune cose allora intanto cominciamo da un parametro che io guardo tantissimo su my fx book l'avirash trade si chiama expectancy e vedo subito un qualcosa che non mi piace tantissimo i trade hanno un guadagno medio di 2,2 pips ora qua potremmo aprire una discussione che dura magari due ore però tendenzialmente come vi accennavo prima la buona regola di programmazione la buona regola di progettazione di training system prevede di mettere a mercato training system che abbiano almeno 10 pips medi di guadagno perché ma perché poi nei mercati reali abbiamo il problema degli slipage ora con TIC1000 come leggevo nelle slide non c'è però generalmente gli slipage c'è comunque anche la possibilità dello slipage perché è massima trasparenza però fai bene ovviamente a sottolineare questo aspetto che con un average così basso poi si rischia ovviamente di non essere profittevoli proprio a causa dei costi anche quelli dei costi nascosti costi nascolti nascosti in genere a cosa ci si riferisce beh allargamento dello spread sotto news sotto dato molti broker insomma molti intermediari allargano molto lo spread e chi fa trading questo lo sa insomma questo è sicuramente un parametro da tenere d'occhio nel decidere se una equity line di questo tipo può fare per noi e anche se un guadagno di questo tipo può fare per noi ok che cosa vedo di positivo beh vedo un average win di 10 pips un average loss di 18 beh no scusa non è positivo questo mi confondevo con un'altra avevo in testa un'altra equity line un average win di 10 pips e un average loss quando perde perde di più di quanto vince anche se comunque la profittabilità è leggermente superiore insomma in questo trading system il grosso problema è questo c'è anche un altro problema ma non voglio parlare di tutti i parametri poi eventualmente Giuseppe possiamo anche organizzare un prossimo webinar specifico per andare a spiegare i vari parametri comunque adesso per non appesantire troppo il discorso comunque quel dato già diciamo che è quello fondamentale per valutare un trading system io poi guardo anche rischio rovina molto rischio rovina un dato importante lo z score ma ecco non voglio indentrarmi sullo z score perché vi chiede spiegazioni che in questo momento anche profit factor profit factor sì profit factor ma profit factor in genere Andrea è tendenzialmente legato a questo quindi guardando questo in genere sia anche un profit factor anche se proprio non è così perché è collegato anche al numero dei trade comunque in questa sede ragazzi voglio soltanto darvi degli spunti di osservazione per chi magari non ha mai visto una cosa del genere che cosa guardare iniziare insomma a sporcarsi un pochino le mani con alcune statistiche io comunque non investirei su quel sistema lì non ci mettere nemmeno 10 euro su quello che hai fatto vedere perché io non investo ok vediamone un altro neppure io ok scusa Giuseppe ti ho interrotto no 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 vediamo un altro vediamone un altro allora qua abbiamo un bel 51% caspita tantissimo sapete che i fondi di gestione i fondi di gestione tendenzialmente lavorano quindi parliamo di fondi che privati o banche private insomma quando fanno un bel 10-12% all'anno sono degli ottimi fondi hanno fatto delle ottime performance 51% ottimo però ragazzi voi cosa ne dite cioè vi piace questa equity che cosa che cosa notiamo beh ha guadagnato nella parte iniziale tra il 2015 questo è un sistema che sta girando anche da parecchio tempo notate dal 2015 d'agosto è partito d'agosto ha passato la prima fase con dei drawdown pronunciati però ha fatto un bel picco e praticamente più di due anni e mezzo quasi due anni che è in stagnazione anzi no è in perdita no che fare cosa fareste voi qua abbiamo per esempio un average win interessante un average loss interessante abbiamo un'espectancy buona vedete ma un profit factor basso tendenzialmente è meglio avere un profit factor sopra 1,5 2 insomma ok piccoli così input che vi voglio dare il problema grosso a prescindere da questi dati di questo sistema è la stagnazione ok tra l'altro vedo qui dei drawdown flottanti perché bisogna distinguere tra il drawdown contabilizzato e il drawdown flottante probabilmente questo è un trading system che non usa stop loss ok lo capisco da questa doppia equity qua oppure lì voleva rimediare e ha esagerato è andato un po' di immediata e insomma direi non bello ok non bello vediamo come un'altra oh questa questa la forbice io la chiamo così tra l'altro questo è un sistema ragazzi estremamente in auge anche su facebook in questo momento ora io non voglio permettermi di criticare nulla ci mancherebbe altro non è tra l'altro per chi mi conosce non fa parte del mio modo del mio stile però se devo giudicarlo in maniera oggettiva devo capire che questa già soltanto l'equity line senza leggere quello che si vede sotto mi fa capire che questa è una bella griglia che cos'è una griglia? è una strategia di trading dove non si usano gli stop loss si aprono sono posizioni long e short contemporaneamente oppure a determinati livelli e che dire la linea rossa rappresenta i guadagni contabilizzati quindi un bel 49% ma la linea qui verde mi dice la verità su questo conto questo conto è in perdita ok? è in perdita si trova sotto zero quindi è vero che ha contabilizzato il 49% scusa Davide non vedo l'equity è l'86%? l'equity line qua ha fatto un 49% no no l'equity sulla ok si no vedo dovrebbe essere l'86% quindi quando vedete equity line di questo tipo doppie vuol dire che sono sistemi che lavorano senza stop loss tendenzialmente ok? infatti lo si capisce da qui sotto 100% delle operazioni in profitto per forza perché ha centinaia di cadaveri o decine di cadaveri di posizioni aperte non chiuse infatti io qua mi sono segnate questo in questo sistema in cui ho fatto lo screenshot aveva 6.000 pips di sofferenza cioè operazioni aperte in cui il mercato si è allontanato per 6.000 pips cioè è una roba che magari per alcuni può andar bene ma vi assicuro è un trading system molto in auge in questo momento veramente sta facendo faville non voglio giustamente fare pubblicità no ma ci sono molti expert simili ma ce ne sono le equity ora non è nemmeno detto che un sistema del genere non possa andar bene perché se io ho una capitalizzazione importante posso anche alla Warren Buffett per intenderci posso anche pensare che lavorare senza stop prima o poi il mercato su quei livelli ci ritorna però ecco lasciamo l'interrogativo aperto e andiamo a vedere il prossimo la prossima equity questa è un'altra equity e questa qua è una griglia perché guardate abbiamo circa quindi un bel 68% di gain contabilizzato ma anche qui vedete la doppia linea verde cioè la linea verde sotto rappresenta il guadagno vero o la perdita vera se si chiudessero tutte le operazioni che in questo momento sono aperte e che sono in sofferenza circa qua si vede un po' in piccolo circa 800 pips anzi no scusate mi dico nell'esattezza circa 80 pips di sofferenza di tutte queste operazioni però questo non è proprio bruttissimo non è bruttissimo non è bruttissimo però anche qui non fa uso di stop loss e un'altra cosa che potete notare qua sotto abbiamo degli histogrammi un po' più alti potrebbe essere un sistema che lavora in compounding o in martingala ok per poterlo approfondire bisognerebbe chiedere all'ideatore stesso oppure andare a vedere nelle varie operazioni aperte nella history andare a cercare di ricostruire un pochino bene mi senti Davide sono sono le 8 e mezza direi che siamo un po' fuori tempo massimo si ti sento si voi mi sentite si ok quindi alla fine alla fine qual è la via ci si può trovare di fronte a domande che riguardano di nuovo la questione del quadrante del case flow perché se avete interesse a fare del trading il vostro mestiere la vostra professione ad esempio diventare degli ottimi trader intraday potreste collocarvi nel quadrante A quindi nel quadrante in cui si deve dedicare del tempo a questa attività se invece preferite fare avere tempo libero e spostarvi tendenzialmente nel quadrante di destra in basso a destra far lavorare i soldi per voi potreste fare trading discrezionale di lungo periodo sui grafici di lungo periodo oppure progettare trading system o utilizzare trading system altrui quindi il trading a seconda della strada che volete imboccare se collocarvi qui o qui può richiedere risposte diverse altri spunti di riflessione è meglio imparare a pescare il pesce così prendiamo spunto dal proverbio cinese o prendere i pesci pescati da altri cioè abbonarsi a dei segnali di trading quindi fare pedissequamente quello che fa un altro oppure imparare a pescarsi e a fare i trade da solo questa è una decisione a seconda di come risponderai potrai imboccare una strada piuttosto che un'altra altre riflessioni è discrezionale dipende dalla tua personalità dalla tua propensione se ami calcoli se ami codici se faccio matematico alla vita e alle cose non ti peserà probabilmente stare davanti al pc per risolvere un problema di programmazione per far fare alla macchina quello che il tuo cervello fa in un batter d'occhio ad esempio potresti sentirti più a tuo agio sapendo che l'expert advisor decide per te ti solleva ti toglie il problema della decisione se invece ti appassionerai al tema indiscrezionale amerai fare le valutazioni le analisi sui grafici proverai soddisfazione in questo dipende anche da quanto tempo hai studio ore tempo lavoro per fare backtest più o meno lunghi possono essere anche parecchio tempo a seconda anche della piattaforma che si usa tutte le ottimizzazioni lo studio sulla robustezza rischio rovina questo porta via tempo nessuna strategia in definitiva dura in eterno potresti dover passare periodicamente di nuovo del tempo a rivedere i tuoi trading system automatici che hai codificato e a dover ricodificarli a modificarli magari andando a rovinare un po' il lavoro fatto perché mettere in mano le cose a volte si fa prima a ricominciare da capo trading indiscrezionale fatto sul lungo periodo consente di avere d'altro canto molto tempo libero ma richiede per certi aspetti una capitalizzazione maggiore perché i stop loss sono più importanti e quindi se il mio obiettivo è vado indietro andare nel quadrante di destra eccolo qua probabilmente immaginate un conto di 50.000 euro a fine anno fate un ottimo 20% quel conto di 50.000 euro vi ha reso 10.000 euro vi ha cambiato la vita? siete diventati più ricchi? potete dire di poter vivere di trading di poter insomma essere liberi finanziariamente? per contro il trading intraday pur essendo un lavoro e quindi collocandosi nel quadrante di sinistra e richiede tempo quindi disponibilità a trattarlo come mestiere come professione può potenzialmente permettervi di fare delle percentuali in termini assoluti più importanti quindi avere anche capitali probabilmente minori perché avete degli stop minori ovviamente con la premessa che per essere ottimi trader intraday ci va molta molta preparazione io paragono il trading intraday ad uno sport fatto a livello non dilettantistico fatto da campioni in buona sostanza il trading intraday ha bisogno di velocità di esecuzione rapidità nel prendere decisioni nel cambiare velocemente idea che non sono doti necessariamente richieste a un trader multi day bene siamo giunti alla fine di questo webinar direi di lasciare le domande se ci sono lasciamo l'immagine della donna vecchia della donna giovane come monito per tutti per imparare a non fare guerra intestina ma cercare di trovare ciascuno di noi la propria strada le proprie risposte per quello che è il proprio personale approccio e punto di vista vi ho scritto qua la mia mail se avete domande acquisiti potete scrivermi e direi sono le 8 e mezza Giuseppe anzi sono le 8 e 39 siamo grazie grazie Davide allora vediamo se c'è qualche domanda c'è chi ti chiede tu da che parte stai io da che parte sto beh io tendenzialmente amo l'approccio della via del mezzo quindi sono nato come trader discrezionale faccio molto trading discrezionale perché sono un trader intraday sono anche uno scalper quindi chi è nel mio gruppo facebook anzi chi ha piacere di iscriversi può farlo trading operativo analisi cercate su facebook questo gruppo o chiedetemi su facebook l'amicizia e trading discrezionale ma anche trading automatico quindi ho un piccolo team composto da amici da un paio di amici con cui ci divertiamo a testare idee fare anche degli studi quantitativi dei mercati perché proprio a seguito della digitalizzazione dei mercati i mercati non è che sono cambiati fanno sempre le stesse identiche cose ci sono periodi di trend periodi di accumulazione di distribuzione ma vi assicuro che a livello matematico e quantitativo ci sono delle cose interessantissime da scoprire e magari forse un giorno organizzeremo anche magari qualche corso su questa cosa qua quindi da che parte sto io scelgo la strada le due strade insieme ecco anche perché avendo dedicato molto tempo al discrezionale posso anche dedicare un po' insomma dedicare tempo al test di idee grazie anche al fatto che ho due amici bravissimi programmatori che in questo mi danno una grande mano sì esatto credo che sia importante comunque avere anche un team di supporto perché imparare anche il linguaggio di programmazione per un trader comunque discrezionale è qualcosa di complicato perché anche io ho un programmatore che mi aiuta sul supporto sull'ediazione delle varie strategie quindi anche per le minime cose come hai detto anche all'inizio è molto complesso come linguaggio quindi anche per una minima cavolata c'è bisogno di scrivere magari un centinaio di codice quindi è qualcosa di molto complesso e quindi avere un supporto sicuramente questo aiuta assolutamente sì aiuta assicuratevi di avere amici veri perché sapete no? l'occasione fa l'uomo ladro in buona sostanza la strada è sempre quella o ci si affida ad altri o si impara a fare le cose se sei all'inizio potresti valutare sicuramente intanto il trading discrezionale per me è fondamentale perché imparare l'analisi tecnica l'analisi quantitativa saper leggere come si muovono i mercati aiuta certamente anche un trader programmatore che invece di queste cose non è esperto se non ha mai fatto trading discrezionale quindi per me le due cose non sono opposte l'una contempla l'altra l'una l'una corrobora l'altra assolutamente c'è qualcuno che chiede sul conto di benvenuto sì ho fatto vedere prima andate sul sito di Ticmill su promozione c'è c'è scritto tutto qualcuno fa una domanda sui indicatori che fanno repaint quindi sì quello del repaint sì non è proprio l'argomento di questa sera ma eventualmente quello perché appunto come dicevi tu le illusioni ottiche ci sono appunto proprio degli indicatori che fanno questo il primo che mi viene in mente non so Giuseppe che ha fatto questa domanda ti do questo breve piccolo piccola malizia per capire se un indicatore fa repaint o meno vai su un grafico un minuto fallo girare lì fai degli screenshot e capirai subito se non sei un programmatore capisci subito se quel indicatore ridisegna o no io tendenzialmente sono contrario agli indicatori ovviamente che repentano quindi preferibile lasciarli perdere anche se vi devo dire che conosco un paio di trader stranieri che su un indicatore che repenta riescono a fare delle buone cose ma perché ne fanno un uso non troppo convenzionale ma ecco adesso non voglio stare lì a aprire un dibattito sul comunque tendenzialmente io sono ovviamente contrario agli indicatori poi anche aggiungerei di fare delle prove non proprio oltre al grafico sul minuto magari anche con un simulatore che mette a disposizione MQL4 quindi lo trovate direttamente sulla MetaTrader quindi vi potete fare tutte le simulazioni del caso e quindi è sicuramente un ottimo diciamo che MQL4 dà comunque anche dei validi tool per poter verificare tutte le varie attendibilità dei vari indicatori Antonio chiede che cosa ne pensi della StrategyQuant StrategyQuant è un ottimo software che permette di fare tutta quell'attività che avviene dopo che la strategia si è progettata e ottimo ottimo per fare tutta la parte di simulazione Monte Carlo studio sul rischio rovina quindi assolutamente è uno strumento utile certo assolutamente sì ma ce ne sono anche altri non mi interessa fare pubblicità ad una cosa piuttosto che ad un'altra assolutamente allora vediamo beh direi che possiamo chiudere siamo andati oltre l'ora sì vediamo aspetto ci sono un po' di domande che ne pensi di un approccio random sistematico approccio random sistematico cosa intendi io credo nel senso che comunque qualcosa senza delle diciamo una logica precisa di entrata ma magari non so entro al mercato con un risk reward di 1 a 2 vedo come va senza una particolare strategia allora questo è un bellissimo argomento questo è un bellissimo è un bellissimo una bellissima domanda e ti ringrazio per avermela fatta ma credo che parlare di questa cosa richieda richieda almeno un paio d'ore per la prossima volta è veramente una bella domanda anch'io ho un indicatore di breakout che fa proprio questo per far vedere un attimo che anche senza una logica precisa comunque si possono avere dei ritorni poi magari Davide organizziamo qualche altro webinar insieme Antonio chiede anche se non sai programmare va bene strategia quant? se non sai programmare va bene strategia quant? beh diciamo che devi avere un po' di come si può dire un po' di attitudine perché metterti lì con acquisire dimestichezza con il software e imparare utilizzarlo come tutte le cose vanno imparate però può essere utile anche per delle strategie eventualmente immaginate delle vecchie strategie magari create dei vecchi metodi di trading creati in anni un po' più datati se sono ancora attendibili se le state usando e sono profittevoli e avete tutte le statistiche su Excel ecco che si può andare a fare un lavoro certamente di studio anche sul discorso del test a Monte Carlo un occhio euro-dollaro hai visto che cosa sta facendo si guarda sta scendendo io sono short dei massimi lassù ho venduto proprio lassù ho un target qua però non so non credo che ci andrà oggi anche se mi piacerebbe vediamo ma ovviamente il trend con la rottura di questo massimo il trend che di breve medio era o meglio di breve era al ribasso è stato violato quindi quasi quasi me la chiudo con questi 60 68 tips circa anche perché anche perché potrebbe potrebbe andare ok ho chiudito boh ragazzi Giuseppe io direi di chiudere così non per chi ha piacere chiedetemi pure il contatto facebook vi inserisco nel mio gruppo dove ogni giorno faccio una affa si fanno analisi e soprattutto è un gruppo nato per poter poi un domani dare un supporto un po' più coattivo concreto considerate che io fino a due mesi a due mesi e mezzo fa non avevo cioè facebook per me era uno strumento abbastanza inutile nel senso che non lo usavo tanto a fini professionali ho sempre fatto il trader non sono tra l'altro un formatore sono un trader però ecco che siccome il trader è un'attività solitaria ho pensato di aprire un profilo facebook che ho aperto in verità a giugno 2016 ma poi mi ero dimenticato di averlo e due mesi e mezzo fa ho aperto appunto questo gruppo ottimo grazie a tutti per aver visto questo webinar mi do appuntamento ai prossimi webinar che sicuramente organizzeremo con Ticmili grazie a tutti ciao a tutti ciao grazie